ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti oggi andremo a parlare al circuito di silverstone anch'esso un circuito molto famoso nella storia anche della formula 1 di altre categorie di corsa il circuito di silverstone è un tracciato di competizioni mobilistiche situato a breve distanza dal villaggio omonimo della contena di north tamponshire in inghilterra fu su questo circuito che si svolse il 13 maggio 1950 la prima gara del campionato del mondo di formula 1 e la sede storica del gran piano di gran bretania di formula 1 storia silveston nascendo come aeroporto militare raff silveston nel 1943 la configurazione era quella standard con la quale venivano realizzati tutti gli aeroporti britannici nella seconda guerra mondiale tre piste disposte a triangolo nel dopoguerra le prime gare utilizzarono proprio le tre piste di decollo come tracciato queste venivano collegate con tre curve secche realizzate con balle di paia si genera un circuito velocissimo dal 1950 si cominciano ad utilizzare per le competizioni di riperimentare dando così origine al circuito vero e proprio il cui schema rimase quasi invariato per 37 anni nel 1951 il 14 luglio josef roland gonzalez si aggiudica il quarto premio di gran bretania prova valida per il mondiale di formula 1 è la prima vittoria della ferrari nella formula 1 e segna anche il declino irreversibile per questo tipo di gara dei motori con compressore volumetrico nel 1975 venne realizzata una chicane nel tentativo di limitare la velocità di percorrenza della curva woodcote nel gran premio del 1985 che che rosberg e williams honda ha realizzato la pole position ad una media di 259 km orari si è trattato della pole position con la media più alta nella storia della formula 1 il record è durato per quasi 20 anni nel 2002 joan paolo montoya su williams bmw ha fatto segnare nel corso della qualifica del gran premio d'italia 259 km 728 decimi dovrebbe essere portato due anni dopo a 260 km 395 decimi di media da rubens barichello su ferrari nelle qualifiche del gran premio d'italia 2018 il record è stato nuovamente battuto da kimmy raikkonen sempre su ferrari con una media di 263 km e 587 decimi due anni più tardi nelle qualifiche del gran premio d'italia 2020 il record è stato ancora una volta aggiornato da lewis hamilton su mercedes con una media di 264 km e 362 decimi nel 1987 venne modificata la curva bridge nel 1990 nel 1991 si sono svolti più importanti lavori di trasformazione del circuito che lo rivoluzionò il lavori lo hanno portato ad una configurazione più lenta privando delle sue storiche curve stowe club e woodcott il campo di configurazione non è stato molto gradito dei piloti di formula 1 nel 1997 il tracciato fu riasfaltato e le curve priori e luffield furono modificate la priori diventa veloce mentre il converso luffield non ha più due curve ed è stato ridotto ad una singola curva fu allungata l'uscita dal pit lane e nel 1998 furono colorati i cordoli della pista prima erano bianchi poi sono diventati blu bianchi quando sono bianchi rossi in questo stesso anno michael schumacher ha vinto il gp di formula 1 attraversando la linea del traguardo in pit lane nel tracciato stovo i cordoli rimassero bianchi fino a 2011 quando furono colorati bianchi rossi per rispettare le regole dei due tracciati nel 2004 è stato raggiunto un accordo della società che gestisce l'impianto e bernie eccleston che ha garantito la presenza della formula 1 a silverstone fino al 2009 sul fine dell'edizione 2008 infatti bernie eccleston ha reso noto che il gran piano d'inghilterra del 2010 si sarebbe spostato sul tracciato di donington park già utilizzato da molti anni per il moto mondiale superbike e per il gran primo d'europa nel luglio 2008 il pilota finlandese della ferrari kim raikkonen ha superato su questo tracciato la storia dei 500 punti nella storia della formula 1 era successo solo a tre piloti fra i quali tedesco michael schumacher a seguito della difficoltà degli organizzatori del donington il 7 di dicembre 2009 venne firmato un accordo tra eccleston e l'organizzatore di silverstone per mantenere per 17 anni la gara sul circuito nella stagione 2010 il circuito è stato allungato di 750 metri e la formula 1 ha utilizzato il percorso inizialmente previsto per la moto gp dalla stagione 2011 la griglia di partenza è stata sposta dalla partizione originale tra le curve woodcott e cops inserendo delle curve club e abbey dove è svolta anche la nuova pit lane e il nuovo paddock il tratto di circuito tra la curva woodcott e la cops lungo cui è presente la vecchia pit lane è stato chiamato rettilineo internazionale nel 2012 fu riasfaltato il vecchio rettilineo di partenza della formula 1 perché sconnesso nel 2018 la pista fu completamente riasfaltata ma il nuovo fondo risuscitò vale critiche sia dai piloti di formula 1 che soprattutto da quelli del moto gp che si vede a nullare gran premio a casa dello scasso denaggio dell'asfalto e delle troppe cunette presenti che rendevano troppo pericoloso correre con la pioggia subito dopo venne istituita una commissione d'inchiesta guidata dalla progettista jano zaffarelli alla luce dei risultati dell'investigazione nell'estate 2019 la pista è stata nuovamente riasfaltata i lavori terminati a tempo di record sono stati diretti dall'italiana dromo le successive gare di formula 1 moto gp si sono risvolte regolarmente segnando entrambe il record sul giro in tutti in tutte le classi il record assoluto circuito è di 1 minuto e 24 secondi e trecenti e decimi stabilito da Lewis Hamilton su Mercedes nelle qualifiche del gran premio di Gran Bretagna 2020 nel 2020 il circuito è ospitato all'edizione del gran premio del settantesimo anniversario introdotto dalla FIA per garantire un certo numero di gare durante la stagione condizionata la pandemia di covid-19 strutture la superficie del tracciato si estende in sud e diverse con te metà del tracciato è nel territorio di Brooklyn Gamshire mentre l'altra metà si trova a Northamptonshire disposto su un altopiano spezzato dai venti una delle sue principali caratteristiche è l'estrema variabilità delle condizioni meteorologiche all'interno del tracciato sono ancora attive tre piste e vengono ancora utilizzate come aeroporto durante il weekend le gran premio Silveston diventa uno dei più trafficati aeroporti metannici tanto che viene creato un apposito centro di controllo del traffico aereo mappa del circuito altri circuiti bitannici no queste beh questi potremmo parlarne in futuro poi vedremo allora e questo è la storia del circuito di Silveston se il video vi è piaciuto come sempre vi lascia un bel mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao